My Sharona, Knek, 8 e 10 minuti, bentornati, seconda ora di trasmissione Good Morning Milano, sempre qui su Crystal Radio, sempre qui per raccontare un po' Milano, quello che avviene a Milano e oggi parliamo di politica, ma sapete che quando parliamo di politica non siamo delle rotture di scatole come molti altri, ma anzi vi portiamo delle belle storie, come ad esempio quella del nostro ospite di oggi, Andrea Maniscalco, buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Allora che cosa ha di particolare, oltre ad essere un bellissimo ragazzo biondo, mi fa sfigurare, Viola, dobbiamo fare qualcosa qua, dobbiamo chiedere prima il casting agli ospiti perché non va bene, poi mi fanno sfigurare, ma soprattutto mi fa sfigurare perché alla giovanissima età di 20 anni è già molto ben impegnato politicamente, poi sul bene non lo so, dipende da cosa ne pensate voi, adesso sentiamo cosa fa, comunque complimenti per l'impegno politico. Grazie mille. E allora Andrea, tu sei il vice coordinatore dei giorni di Forza Italia, di Milano, giusto? Esatto. Ok, dalla tua bio su Instagram, tra questi complimenti anche per il nickname, offreddoalle.mani mi piace. Cioè Maniscalco, abbreviativo mani, finale elementare. Bellissimo, bellissimo. Ma tu metti nella tua bio come prima riga liberale e berlusconiano e lo fai senza vergognarti. Assolutamente. Beh, dipende da come lei si pensa, in molti me lo dicono, visto che il mio hobby preferito al posto di studiare è litigare nei commenti di Instagram. Sei laureato in quello, mi sa, ormai. Sì, sì, laureato. Magistrale. Ecco, diciamo che non fai nulla per evitarlo, perché davvero una bio così non voglio sapere cosa ti porti. Beh, è anche abbastanza divertente provocare. Ah, vedi, vedi, vedi. Però allora ti chiedo che cosa significa per un ragazzo di vent'anni essere liberale e berlusconiano. Tu Berlusconi l'hai vissuto poco. L'ho vissuto poco, ma quelle poche volte che l'ho incontrato ho potuto vedere la sua grandezza, la sua lungimiranza e appunto la lucidità mentale di un uomo comunque anziano, che però mi ha insegnato tanto anche in così poco tempo. E cos'è che non abbiamo capito allora noi altri che ogni volta lo smontiamo, ogni volta lo denominiamo? Ovviamente io devo fare il controaltare in questo caso, no? Assolutamente, sì, sì. Che cosa non abbiamo capito di quell'uomo allora, secondo te? Beh, penso che, nel senso, lui era una persona molto divisiva, di natura, anche se poi a livello pratico tentava sempre di unire. Però, sì, capisco che ha subito, appena entrato in politica, ha creato la contrapposizione tra lui e i cosiddetti comunisti e appunto diciamo che non l'hanno presa benissimo. E detto cosiddetti, tu non sei uno di quelli che vede comunisti in ogni angolo oppure ci sono ancora? Ci sono, ci sono, però, insomma... Diglielo a quelli di sinistra perché non se ne sono accorti evidentemente loro che invece ci sono, perché li stanno cercando da anni e non sanno dove sono finiti, hanno perso completamente una bussola. È un po' soggettiva la descrizione di comunista. Invece liberale, liberale che significato dai tu oppure c'è un significato più alto da cui non si può prescindere? Ma vabbè, c'è il significato base, diciamo, di liberale che è credere nelle libertà individuali sia economiche che civili. Quindi io sono liberale in quel senso, non è affare dello Stato la maggior parte delle cose che faccio. Ok, però la destra ultimamente su certi temi soprattutto personali ci entra spesso, vediamo diritti LGBT, aborto, è tutta quella spera lì, fine vita. Assolutamente, però ci tengo a sottolineare che non è la posizione unitaria del centro-destra visto che, appunto, soprattutto in Forza Italia abbiamo tante persone attente a queste tematiche. Tre bandiere hai messo sul tuo profilo. La bandiera dell'Italia, la bandiera dell'Europa e credo, non credo sia la bandiera della pace, la bandiera LGBT. Ok, la bandiera LGBT. Fa strano vederlo su un profilo di qualcuno in Forza Italia, spiegacelo. Vabbè, io sono omosessuale, però non credo che, appunto, volevo avere un'idea di andare al Pride quest'anno con un cartello con scritto non siamo tutti comunisti. Diciamo che, appunto, non è che l'orientamento sessuale deve necessariamente avere una prerogativa dell'essere di sinistra o di avere delle idee stataliste. Chiaro, tempo fa ho avuto l'ospite Matti Abdu, che è presidente del Municipio di Milano, che diceva, soprattutto quando era successo con la Russa una certa discussione, diceva io sono comunista e gay, il peggio che la Russa possa immaginarsi. Unosimoro. Unosimoro, no? Però anche nella posizione del centro-destra, appunto, questa cosa non è vista, o meglio, non so, non è vista bene, non è capita, non la capiamo noi da fuori, che magari invece pensiamo che sia ancora tutto così chiuso e invece tu non sei la prova vivente che non è così, non so. Beh, sicuramente in Forza Italia non è chiuso, visto che il partito su questi temi ha sempre lasciato libertà di coscienza, quindi anche in Parlamento ci sono nostri parlamentari che hanno votato l'IDL ZAN, le unioni civili e tutte queste cose. Diciamo che Lega e Fratelli d'Italia non è affar mio, però la situazione credo sia un po' diversa, ma io, nel senso, noi rimarchiamo le nostre differenze con loro nonostante siamo nella stessa coalizione. Interessante, nel senso che questo porta un po' a quello che dicevi prima, no? Berlusconi è un personaggio molto divisivo, ma che poi però cercava di unire. Forse è questo che dovrebbe fare un po' anche il centro-destra, o magari l'azione di giovani come te, che all'interno di una coalizione così ampia possono cercare di unire su certi temi? Assolutamente, sarà difficile perché c'è un certo mondo, per esempio, rappresentato dall'associazione Pro Vita e Famiglia, tutte queste realtà che è complicato anche discuterci. Però, certo, si cerca sempre di arrivare a una sintesi. E io ti faccio i complimenti, Andrea, perché davvero tu sei la prova in questo momento di come, magari, uno ha un pregiudizio, diciamocelo, no? Su, ecco, arriva quello di destra con la giacchetta e la cravatta, chissà di cosa mi racconta, ce la va su con gli immigrati, ce la va su con i diritti, e mi hai già smontato in Pro Vita. Mi hai parlato dei diritti LGBT, insomma, adesso mi hai messo... Se fossi il classico giornalista legato alle sue cose, mi mettevi in crisi. E per fortuna che anche io voglio essere open-minded e capire davvero come un ragazzo di vent'anni si avvicina con così tanta passione alla politica, tanto a diventare vice coordinatore dei giovani di Forza Italia, responsabile del Dipartimento Università, vero, di Milano? Di Forza Italia e Milano, sotto la guida dell'onorevole Rossello, sì. Insomma, la passione arriva forse da lontano, ne parliamo fra pochissimo, subito dopo che ci ascoltiamo The Kid Laroi con Thousand Miles. Thousand Miles, The Kid Laroi, alle 8 e 20 minuti qui su Cristian Radio, Good Morning Milano. Siamo parlando di politica, politica, giovani, università anche, perché appunto il nostro ospite Andrea Maniscalco è anche il vice coordinatore di Forza Italia Giovani Milano, ma soprattutto il responsabile del Dipartimento Università di Forza Italia Milano. Milano, città universitaria a tutti gli effetti, che però si dimentica troppo spesso degli universitari. Com'è sta storia? Eh, che Milano è anche tanto altro, per fortuna o purtroppo. Capitale della moda, capitale economica, sedi di tante imprese. Quali proposte possono uscire dal vostro Dipartimento, perché credo sia poi in vista delle prossime elezioni amministrative, giusto? Certo, adesso ci stiamo concentrando soprattutto sull'housing universitario, per capire quale può essere una soluzione equilibrata, perché alla fine non è che si può andare dalle persone che affittano le case e dire non puoi affittarla a più di 500 euro al mese, sarebbe una misura stalinista praticamente, però bisogna trovare una soluzione che ci siano… E non ci piacciono gli stalinisti. Assolutamente. Ribadiamolo bene. Ribadiamolo. Sono ancora ad oggi come sempre dei poveri comunisti. Citazione, citazione. No, giustamente dici quindi l'housing. E il problema lì, appunto, mi immagino che la soluzione potrebbe essere una commissione tra privato e pubblico, come potrebbe funzionare. Assolutamente. Stavamo pensando ad aumentare, tra virgolette, delle borse di studio, che siano o comunali o regionali comunque, ovviamente in base al reddito, perché non ha senso aiutare chi si può permettere una casa, sarebbe uno spreco di soldi pubblici, che purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni, grazie a Conte. Però certo, in base al reddito all'Ise si possono dare degli aiuti mirati per aiutare appunto gli studenti a vivere dignitosamente in questa città. Milano è sempre più attrattiva a livello universitario, tantissimi studenti che arrivano da altre parti d'Italia e anche tantissimi dall'estero, tantissimi stranieri che vengono proprio a studiare a Milano perché scelgono le facoltà di Milano. Secondo te questo trend è ancora in espansione, sarà sempre più così? Che cos'è che rende Milano così attrattiva? Penso che in Italia Milano è unica, è l'unica città tra virgolette europea che c'è a Milano, anche il paragone con Roma, Napoli, che sono bellissime città, ma sono ancora ancorate alla tradizione italiana, un po' di caos, inefficienza e mezzi pubblici che funzionano poco. Milano, anche grazie alla sua piccola, relativamente piccola dimensione territoriale, funzionano meglio i servizi, soprattutto una città giovane, una città con una vita sempre in movimento a tutte le ore del giorno, quindi penso sia attrattiva per i giovani. Mi stai facendo i complimenti al sindaco Sala che stai facendo? No, beh, grazie. Ma ne scacco, faccio una citazione da Moretti, dica qualcosa di destra a questo punto, dica qualcosa di destra. Perché Milano, l'essere per Milano, che sia di sinistra o di destra, ovviamente critichiamo Sala su tantissime tematiche, in primis la sicurezza, i trasporti, la mobilità, per l'amore di Dio. Cosa c'ha contro la mobilità? Non vanno bene le piste ciclabili? Assolutamente. Perché? Ma perché voi ce l'avete su? Mi spiegate perché voi di destra ce l'avete su con le piste ciclabili? Vi sta sulle balle il ciclismo, qual è il problema vostro? Mio padre è un ciclista. Eh, appunto, anche Dubini dice che mi dica. Io non ho problemi con le piste ciclabili, ho problemi con le piste ciclabili fatte male, che sono pericolose per i ciclisti, per i pedoni e per gli automobilisti, perché una linea tracciata per strada non è una pista ciclabile. Pedonalizziamo questo punto? Dipende, in alcuni contesti si può pedonalizzare, però in altri sono davvero senza senso le piste ciclabili, ci si passa, mai visto un ciclista, sono lì per bellezza, le usano come parcheggio in doppia fila. Quelle macchine usano come doppia fila? Sì, perché non ci sono i ciclisti. Ah, è colpa del ciclista se la macchina può essere in doppia fila, mi sta dicendo questo? No, assolutamente no. Ah, ok, ok. Invece, area C? Area C è giusta, l'area B è il problema. Area C è giusta? Aspetti, aspetta. Sì, sì, quando ci si insulta si dà del lei, quando sei carino si dà del tu. L'aumento dei prezzi non è giustificato, perché alla fine ci sono persone che ci abitano, per esempio anche miei nonni, che abitano proprio appena al confine di area C, e si vedono togliere gli accessi, e comunque sono persone anziane che hanno bisogno di prendere la macchina per muoversi. L'aumento a 7,50 euro mi sembra completamente fuori dal mondo, perché non ci sono solo turisti. Sì, mi è sembrato anche abbastanza inefficace in realtà. Ma anche l'area B è inefficace, però il problema vero è l'area B, perché alla fine penalizza soprattutto le fasce più deboli della popolazione, che sono costrette a cambiare macchina e probabilmente non hanno neanche soldi per farlo. Ho capito che sei molto affezionato alla città di Milano, ti piace tutto. Oggi, la notizia di oggi è che il Consiglio Comunale ha deliberato il fatto che la parola Milano possa essere utilizzata in alcuni brand solo dopo una concessione da parte del Comune dell'utilizzo di questo nome. Perché noi con Good Morning Milano dovremmo capire se possiamo continuare a usare o no, adesso non andare a citofonare a Palazzo Marino e chiedere se posso. No, però ad esempio soprattutto per non usarlo ad esempio in alcolici, non usarlo in situazioni in cui la parola Milano sia forviata, diciamo, o forviante dal punto di vista del senso civico della città. Dipende, adesso non ho letto la proposta. Adesso andiamo a cercare intanto. Però secondo me, da come me la stai dicendo tu, non mi sembra una scelta molto intelligente, perché magari, esempio, c'è un super alcolico molto famoso che è stato fondato a Milano, ci sta a rimarcare… Se facciamo un esempio proprio sulla Gappa Milano, ad esempio, la Gappa Milano rischia di non poter più usare il marchio Milano. Ovviamente bisogna bere consapevolmente e bisogna sempre sottolinearlo, però mi sembra un po' la filosofia walk, cancel culture della sinistra, come mettere il vino fa male alla salute, sopra le bottiglie. Erwin Maleskin con Valentine, le 8 e 34 minuti, di nuovo qui con Andrea Maniscalco, giovani di Forza Italia a Milano, stiamo parlando di politica. Come nasce la tua passione per la politica? Non mi dire quando ero giovane perché lo sei, quindi… No, quando ero bambino. Ah, ok, infatti, va bene, va bene. In casa abbiamo sempre parlato di politica, non ho nessuno in famiglia che voti Forza Italia. Quindi gliel'hai fatto come torto, gliel'hai fatto apposta. Sì, sì, mi hanno sempre cresciuto con il mito di Berlusconi brutto e cattivo, invece alla fine sarà che sono un po' ribelle. È così, capite? L'essere punk, vero, è questo, è fare il contrario con i tuoi genitori. Ma che tu sei cresciuto in una famiglia, diciamo, di estrazioni sinistra? Cioè possiamo definirla così? Sì, una parte di centro, nonni paterni abbastanza moderati, nonni paterni invece del PD. Ok, ma accomunati dal non vedere bene Berlusconi, questa cosa le accumulavano tutti? Sì, sì, abbastanza, con anche i genitori abbastanza anti-berlusconiani. E invece tu? Invece io, però dai, poteva andare peggio. Poteva drogarsi, si diceva una volta, queste frasi, no vabbè, ho capito, però nel senso in famiglia abbiamo sempre parlato di politica. Come l'hanno presa? Eh, quando, perché io ho avuto una storia un po' particolare, ho cominciato a 14 anni nel PD con Renzi, che non ci tengo a sottolineare che non è assolutamente il PD massimalista di adesso con la Schlein. Ti sono dei pochi che difende, cioè questa scelta invece di... Complimenti, no, mi piace questa cosa. Poi ho seguito Renzi in Italia Viva, ma sono durato poco, visto che da quattro anni sono in Forza Italia e sono fiero di essere, diciamo, sono sempre stato abbastanza di centro, abbastanza moderato, alla fine ho trovato il mio compimento in Forza Italia. Cioè, da capire se il torto più grosso l'hai fatto ai tuoi quando hai scelto di andare in Forza Italia o quando hai scelto di stare con Renzi, cioè, bisogna capire questo. Quali delle due cose ha? Ebbè, anche Renzi alla fine, abbastanza di Forza Italia anche lui. Ah, beh, non so quanto sarebbe contento di solo dire, oppure forse sì. Parlavamo appunto della, comunque ecco, la passione per la politica è una cosa che ti ha preso fin da piccolo, però ecco, c'era un humus buono, cioè stavi parlando di politica in famiglia, i tuoi parlavano di politica... Pranzo della domenica si lanciavano i piatti, praticamente... Su temi politici. Su temi politici. Ecco, adesso i piatti si lanciano quando va bene, e pensate cosa sto per dire, per il calcio, no? Per la tifoseria Milano-Inter, se no sull'ultimo TikTok visto o fatto dalla mamma, che ancora forse è peggio. Come possiamo per... Insomma, tu li vedi tutti i giorni, i giovani. Non credo che in università siano tutti come te, che fanno politica o così. Pensavo di Forza Italia. No, 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 come facciamo a tirare di dentro questi qua, cioè, oppure meglio così, cioè state fuori che è meglio. No, è un grande problema, purtroppo, perché l'astensionismo sta aumentando sempre di più, anche se le persone che si astengono di più in realtà sono 40-50 anni, piuttosto che i giovani. Capito, noi diamo la colpa a loro, passiamo noi stessi. No, c'era un grafico sul Corriere qualche giorno fa, però certo, i giovani è chiaro che abbiano un minore interesse o comunque un interesse più superficiale nella politica, si limitano a vedere il post su Instagram e a farsi un'idea di politica, appunto, un po' semplificata. Questo è un problema, ma perché, appunto, la politica purtroppo è ancora composta da persone che l'hanno resa impopolare, appunto, che danno questa immagine che la politica alla finestra è tutto magna magna, cosa che non è, visto che prima di guadagnarci si spende. Infatti, tu non ci guadagni assolutamente niente, ci perdi tantissimo, immagino. Ci perdo tantissimo, sì, sì. Immaginavo. Quando ci sono le convention, il treno ce lo dobbiamo pagare noi, i volantini ce li paghiamo noi. Pensate. E sono quelli ricchi, sono quelli di forzità, no, scherzo. Ma quali sono quelli del PD? Polemica qui, vabbè. No, invece, domande a bruciapelo così su Milano, invece. Ok, allora, vabbè, dici, piste ciclami li abbiamo già detto, quindi… Fatte bene. Fatte bene, cioè sì, ma fatte bene, cioè basta la linea per te, ok. Stadio di San Siro? No. Cosa facciamo? Sono contrapposto alla linea del mio partito, io sono, parlo più da milanista che da politico, voglio uno stadio privato il prima possibile, ovunque sia. Io avrei preferito buttare giù San Siro e rifarlo qui. Ok. Però se sarà San Donato, va bene. Buon viaggio San Donato, al San Francesco di San Donato. Esatto. Ho scoperto che siamo a San Francesco il quartiere in cui verrà fatto, quindi da San Siro a San Francesco, va bene. Sempre Santi Solano, anzi avete fatto l'upgrade, non ce ne voglio a Siro, ma al Francesco, insomma, proprio. Olimpiadi, Olimpiadi Invernali a Milano. Sono un'ottima opportunità per la crescita della città, noi del centro-destra, prima con Albertini, poi con la Moratti, siamo sempre stati sponsor di questi eventi così importanti nella città. Quindi… i due cittati sopra. Sì, sì, li ho conosciuti. Albertini è davvero una persona squisita, che sono contento che sia rientrato in Forza Italia. Mi spiace quasi dati ragione, nel senso che effettivamente ho avuto un chiaro modo di intervistarlo e devo dire che, insomma, caratura di una politica che in cinema vedono pochi. Sì, assolutamente. Invece, tema sullo sciopero dei mezzi, questa tradizione milanese. Diciamo che da liberale sarei un misto tra adottare la linea Reagan e la linea Milei. Ok, credo che sia abbastanza chiaro. Ne hai nominato prima, ne hai citato un po' prima questo tema, però te lo faccio un po' più sul tema, borseggiatrici della Metro Gialla. Servirebbe cambiare proprio la normativa a livello nazionale, una volta le abbiamo incontrate, molto simpatiche. Qual è il tema? Secondo il punto che dici, cambia la normativa perché? Qual è il tema che non torna? Il fatto che, visto che sono sempre incinte, non possono andare in galera, questo è il tema fondamentale, penso condiviso dalla maggioranza dei milanesi, a parte qualche consigliere del PD. Capito, 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 allora stavo leggendo un attimino i whatsapp che ci arrivano al 331 7853555, altri che ti fanno i complimenti perché è bello vedere come dei giovani si affacciano alla politica, quindi complimenti anche dai nostri ascoltatori. Andiamo avanti intanto con la musica e poi torniamo qui a parlare ancora con Andrea Maniscalco, politica giovani, se volete fare altre domande 331 7853555. Analisa con ragazza sola e anche voi che siete ascoltando da casa in questo momento, magari siete giovani e avete voglia di fare politica e siete anche di destra, pensate, non siete soli perché c'è anche Andrea Maniscalco. Destra è un po' un parolone. Ah, attenzione, attenzione, vedi, sbagliamolo su questa cosa del dividere ancora. Dipende di cosa si intende destra, sicuramente io non sono assolutamente sovranista o iperconservatore. Vedi? Ecco, bravo, Maniscalco ti metti subito al suo posto, non ti dici no, attenzione, destra vuol dire tutto o vuol dire niente. Esatto. Destra liberale. Destra liberale. E quindi, come dicevi prima, l'idea che le cose mie sono mie e non è che lo Stato deve metterci back in ogni cosa. Esatto. Più o meno, giusto. Detta male, detta veloce. Come che è? Liberalismo for dummies, questo va bene? Esatto. Liberismo for dummies è così che apre. Prossimi progetti futuri, in questo caso si chiederebbe se tu facessi il cantante. Però vabbè, fai comunque... Suono la chitarra. Vedi, ecco, vedi. Anche artistico, pensa, suono la chitarra. Cosa suoni? Fatto anche l'artista. Cosa suoni a chitarra? Country. Ah, bene, dai, bello, bello, bello. Un po' Trump. Un po'... No, no, no. No, no. Meglio Nicky e Ale. Ah, ok, ci stacchiamo da quella roba lì. Nick Cave, quella roba che non mi piace, no? Sì, sì. Troppo, troppo. Johnny Cash. Johnny Cash più, ok, Johnny Cash, va bene. Ce l'abbiamo, Walk the Line, come grazie, una cosa del genere. No, però comunque, appunto, non credo che nel futuro ci sia un album country nel tuo futuro, non si sa mai. Non è imminente. Non è imminente, invece magari la politica è più imminente. Che cosa saranno i tuoi prossimi progetti futuri in politica e anche di Forza Italia Giovani? Beh, io avendo anche tra i tre vice coordinatori del movimento giovanile ho la delega all'attività sul territorio. Visto che mi piace molto girare per mercati a febbraio con meno a due gradi, è una passione. Ovviamente abbiamo bisogno di farci vedere più sul territorio, visto che spesso si sente direi a Forza Italia è morta, ma poi non è vero, siamo ancora qua, sempre vivi i vegeti. Per alcuni è una speranza, credo, per quello te lo dicono. Eh sì, ma come sempre sono tutti i comunisti invidiosi. Ovviamente dobbiamo tornare a farci vedere di più sul territorio, per i mercati, raccogliere le proposte, stare più vicino al cittadino, perché dobbiamo ritornare ai tempi in cui Forza Italia a Milano c'aveva il 35%. Eh, adesso quanto avrete? Ma sono sette, otto. Secondo gli ultimi sondaggi cosa dicono? Fate ancora tutti quei sondaggi che facevate una volta, Forza Italia la famosa per fare sondaggi di tre per due, no? No, di meno, di meno. Ormai siete tentati come tutti gli altri, non ne fate più così tanti. No, e invece dal punto di vista appunto del movimento dell'università che tu segui, come si può magari anche interessarsi se qualche studente universitario vuole avvicinarsi appunto di più? Beh, abbiamo due modi, abbiamo il movimento giovanile che ci potete trovare su Instagram Forza Italia Giovani Milano, originale, però efficace. Efficace, poi abbiamo anche il nostro movimento universitario che si chiama Studenti per le libertà, siamo attivi in tutte le università di Milano e si può cercare appunto su Instagram il nome della propria università. Come fare politica all'interno dell'università? Dall'altra parte mi viene facile pensare di fare politica all'università, no? Con Bambini Rosso sventolandole. Della vostra parte com'è possibile? Beh, ovviamente sempre con la Digos, perché purtroppo non è un ambiente molto democratico e sicuro. Gruppi di sinistra, molte volte abbastanza violenti, centri sociali, gentaglia di questo tipo. Bene, per farsi amici tutti, no? In questo caso, ben visto? Sì, sì. Diciamo che ho avuto un esempio, sono andato una volta all'università appunto con la spilletta di Forza Italia, perché poi dovevo andare alle presentazioni della campagna elettorale di Galliani per il seggio al Senato e mi ha avvicinato un comunista ubriaco e fatto, che mi ha detto... Diciamo che il fatto di essere comunista forse era un margine, cioè come dire, in quel caso. Sì, sì, un studente dell'università, probabilmente fuori corso da cinque anni, se va bene, arriva e mi fa, sei coraggioso venire con la spilletta. E io, grazie. Beh, è un complimento, hai fatto un complimento, ho dato del coraggioso. Forse avrebbe quasi una minaccia. Ah, sì, no, ho immaginato che fosse tra le righe c'era da leggere quello. Se vuoi darci le coordinate, invece, per seguire la tua azione politica e per magari, magari, mi viene anche da dire, ispirare qualche tuo coetaneo, no? Adesso non mi erogo questo ruolo. Ma sai, magari uno vede l'esempio e dice, ah, quasi... Sì, ma è importante fare politica... Anche in peggiori dei casi, dice, se ce la fa lui... No, esatto, esatto. L'importante è fare politica, non farla necessariamente con noi. L'importante è agire, l'importante è fare qualcosa, per cercare di migliorare le cose. Per quanto mi riguarda, potete seguirmi su Instagram, hofreddoalle.mani, oppure su Facebook, Andrea Maniscalco, o su TikTok, Andrea Maniscalco. Perfetto, Andrea, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui questa mattina con noi. Grazie a te per l'invito. Grazie anche alla nostra Viola in produzione, che ha gestito tutto quanto. Viola, la prossima volta, però, dimmi che viene con la giacca e la cravatta, così anche io mi vesto un po' meglio, che, insomma, questo pile adesso... È regolo di Natale, però, insomma... Forza Italia, scontato. Eh, infatti, dovevo forse fare una ricerca io, Viola, che dici? Ecco, tu non lo sapevi, dice Viola, Viola alza le mani e dice non lo sapevo, però anche Viola è sempre molto elegante, quindi io vi ringrazio davvero. No, grazie, grazie mille, Andrea. Grazie davvero a te per me. E ci sentiamo presto e voglio sentire un po' cosa combinate e dove andate. Assolutamente. Vi seguiamo, vi seguiamo. Grazie davvero ad Andrea, grazie ancora a Viola in produzione. Andiamo con l'ultimo pezzo perché dopo di noi c'è la sigla.